Ma anche su poi lo scopo, perché poi si arriva a Piazza Venezia e non si può fare una stazione terminale, ci sono problemi di questa tappa che sta sotto, che si va a poi legare a fuori, dove si deve mettere, ci sono problemi giganteschi. Allora io penso che, specialmente in tempi di spendere di uso, di uso anche delle risorse, noi dobbiamo essere un'importante, quindi diciamo per quello che mi riguarda, poi sentiamo i colleghi delle altre commissioni, la mia preoccupazione è quella che si faccia un punto, quindi siamo tutti d'accordo che siamo arrivati a San Giovanni, cioè arrivati con i cantieri, non con la metropolitana, ancora, e questo non ci viola, dobbiamo al più presto far funzionare questa tratta, però ecco nelle more che si completa San Giovanni facciamo una riflessione, in una società democratica, in un'istituzione democratica, che si ascoltano, si riflette, ci abbiamo lo strumento della via, che secondo noi fa anche in tempi brevi, perché si tratta di un tratto, che già si conosce, eccetera, che ci può tranquillizzare su come andiamo avanti. Altrimenti credo che questa diventa un'opera che sarà, come dire, se imposta in questo modo, non c'è convinzione, persuasione, chiarezza, un'opera destinata a un travaglio, a delle contestazioni, leggendo molte documentazioni, fornitemi, alcune cose ci lasciano molto, molto perplessi, anche dal punto di vista della correttezza, per esempio mi è stato detto che il famoso tronchino prima di San Giovanni, che avrebbe, eh, non si poteva fare. Poi mi leggo a fregarti e lo dice, non si poteva fare, secondo un primo progetto, ma quando poi le metropolitane si sono sovrapposte, questo si poteva realizzare. Allora, insomma, ci vuole molta chiarezza e trasparenza. Io vorrei che questa riunione si sforcesse come una prima riunione di confronto, di chiarezza per quello che possiamo fare. Se stamani non esauriremo, diciamo, la discussione, eccetera, ci potremo riconvocare, magari con i microfoni, così sarà anche più agibile la Commissione. Quindi io concluderei qui. C'è il Presidente della Commissione Ferrari, c'è? Ferrari, se... Allora, abbiamo, per Roma detropolitane, se volete, come noi. Presidente Palloni, direttore di Napoli, responsabile del procedimento di Giniar Sciotti, direttore di Giniar Sciotti, direttore di Giniar Sciotti, poi, per me non abbiamo ancora nessuno. No, c'è tanto, sono io, c'è tanto. Grazie. 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 Grazie.